Sarà inaugurata il prossimo 18 novembre la mostra del maestro modicano Salvatore Fratantonio dal titolo Chiaro Buio nella sala Pippo Tumino alla Camera di Commercio ragusana in via Natalelli. La mostra del noto pittore modicano durerà fino al 10 dicembre ed è patrocinata dalla stessa Camera di Commercio di Ragusa che la ospita nei propri locali. Andrea Guastella, scrittore, nel recensire la mostra, sottolinea come Fratantonio in questa mostra rifugga da ogni schema preordinato secondo un'attitudine evidente persino negli autori cui reca un sentito omaggio che non potrebbero essere più distanti l'uno dall'altro. E così si trova l'Hopper in una stazione di servizio frequentata solo da fantasmi e il monè di un albero del suo giardino che è come dire un artista, l'americano, dallo stile apparentemente fotografico ma dal gesto pittorico autorevole sicuro e un pittore, il francese, che gareggiando con la foto e quasi cercando di eguagliarla realizza la pittura meno fotografica e più viva del suo secolo. Salvatore Fratantonio spiega poi che la vera novità di questa mostra sono le opere nelle quali le figure tagliano diagonalmente la composizione colte nell'ora del tramonto le cui ombre si allungano, si stagliano a terra come sagome e il colore luminoso del terreno crea un forte contrasto tra la marcata semplificazione delle forme che diventano essenziali e prive di dettaglio senza variazioni di tono e contrasti di colore. La mostra sarà inaugurata il prossimo 18 novembre alla Camcom di Ragusa alle 17.30. Grazie a tutti.